Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo molto contenti di essere in tanti. Questa penso che sia un'occasione molto importante di scambio, che è come se fossimo in un grande ambulatorio dove noi medici, che facciamo i medici tutti i giorni, parliamo regolarmente con i malati, questa è un'occasione di confronto collettivo. Le malattie miopoliperative sono malattie nel gruppo delle malattie rare, però dal 2005 in poi abbiamo scoperto le mutazioni che determinano la malattia, abbiamo scoperto altre mutazioni addizionali, abbiamo nuovi farmici, abbiamo mai entrati nell'uso, nell'impiego quotidiano, abbiamo terapie sperimentali nuove. Questa è una giornata per fare un po' il punto sulla clinica, i sistemi di prognosi, come mai scegliamo una terapia a posto di un'altra e anche per guardare un po' in là su quelle che sono le terapie più importanti di oggi e quelle del prossimo futuro. Io sono Francesco Passamonti, ematologo di Varese e con AIL abbiamo organizzato, questo è uno dei tanti incontri che abbiamo organizzato, l'ultimo organizzato in Lombardia l'abbiamo fatto a Varese, quest'anno abbiamo deciso di farlo a Milano perché ovviamente Milano è il cuore della Lombardia, è molto più facile raggiungere, devo dire che la sede è così bella che non c'è confronto rispetto alla sede di Varese e ho il piacere di introdurre insieme a colleghi ed amici il professor Paolo Corradini, direttore dell'ematologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori, la dottoressa Enrica Mora responsabile della rete ematologica Lombarda, la dottoressa Cani responsabile dell'AIL Milano e noi faremo poche parole di benvenuto a tutti voi. Una seconda parte sarà gestita dal dottor Donato che ci presenterà l'AIL gruppo malati con malattie mielopoliferative di cui lui è il fondatore responsabile e poi passiamo sulla parte più scientifica. Lascio al professor Corradini due parole di benvenuto. Buongiorno a tutti, io vi rubo veramente pochissimo tempo perché credo che queste siano le occasioni per poter parlare in maniera informale da parte dei pazienti e dei medici dei percorsi che si condividono. In realtà come AIL Milano, tra virgolette, sotto legge da più grande dell'AIL nazionale, faccio responsabile scientifico, come voi sapete l'AIL ha sempre questa duplice attività, un'attività molto vicina alla vita concreta dei pazienti, tipo non so le case alloggio che ci sono in tutta Italia, volontari, mille iniziative che sentirete anche dopo. Poi una parte anche più scientifica a livello nazionale molto grande che è quella che avete sentito nel tutorial che è andato avanti ripetendo se stesso molte volte, quella del GIMEMA, cioè di aver creato un gruppo nazionale per fare gli studi clinici e quindi mettere anche i nuovi farmaci non ancora in commercio perché fare studi clinici significa cercare di allungare e di migliorare la vita delle persone ma anche rendere disponibili dei farmaci che magari sono già approvati in altri paesi ma che gli enti regolatori approveranno in Italia magari dopo due anni e quindi avere l'opportunità di averli prima. Noi ovviamente come AIL Milano aderiamo a questi e come centri milanesi aderiamo a questi studi clinici nazionali, come AIL Milano abbiamo dei progetti indipendenti che sono prevalentemente collegati all'utilizzo del Next Generation Sequencing per cercare quote di malattia molto piccola nelle malattie linfoproliferative. Io però non vi rubo altro tempo, voglio solo dirvi una cosa che forse probabilmente essendo una cosa che è avvenuta di recente ma un po' per gli addetti ai lavori non è così nota, anche se c'erano rappresentanti dell'AIL, c'era il dottor Bombaci, anzi ingegner Bombaci, che a Milano a metà maggio è avvenuto il primo Patient Empowerment Day europeo con anche persone della comunità europea che sono venute per firmare quella che sarà poi chiamata la Carta di Milano dove in tutto il mondo oncologico in generale quindi non solo dentro l'oncoematologia che ovviamente ne è una piccola parte statisticamente come numeri, si cerca di rendere disponibili a qualunque paziente in Europa una serie di tutele nella condivisione dei percorsi diagnostici e terapeutici cioè quello che a uno che fa bene il medico può apparire ovvio che fa parte del suo lavoro condividere queste scelte, forse non sempre così ovvio e quindi grazie a molti advocacy group e a un numero molto grande di rappresentanti di grandissimi centri oncologici europei c'è stata questa due giorni che è stata la prima in tutta Europa che darà origine a questa Carta di Milano quindi mi sembra veramente bello e assolutamente in linea avere un evento AIL Milano che è un'altra, scusate, AIL a Milano, un evento pazienti perché l'AIL nel piccolo perché non è che l'Italia è grande come l'Europa però è stata la prima a formalizzare in Italia questi eventi pazienti e questa secondo me è una cosa molto bella e molto importante Vi ringrazio per essere qua oggi proprio per le finalità di questo incontro Io rappresento la rete ematologica Lombarda che è una rete di patologie, sono patologie ematologiche che prevedono che ci sia una uguale opportunità per tutte le realtà ematologiche di avere i farmaci e di poter essere a livello delle strutture più grandi Devo dire che le strutture globalmente in Lombardia che fanno ematologia sono oggi 104 Di queste 104 ci sono 12 strutture che sono ad alta specialità e oggi abbiamo qui con me due colleghi molto noti il professor Corradini e il professor Francesco Passamonti che hanno realizzato ematologie di alto profilo scientifico Quindi io voglio dire la rete serve e serve anche la rete per andare nella direzione del paziente Vi ringrazio per essere qui e spero di poter continuare ad avere sempre il contributo di persone come Paolo Corradini e in modo molto aperto che una persona giovane e di alta competenza ematologica quale il professor Passamonti possa continuare a lavorare come ha lavorato finora creando una realtà laddove non c'era L'ematologia che guida il professor Passamonti è un esempio per tutti quanti Per cui un grazie ai miei colleghi, un grazie all'AIL, al gruppo dei vostri volontari in modo particolare e mi auguro che questa giornata possa rappresentare un momento di scambio di idee e di risposte ai vostri quesiti Grazie Grazie